È circa il 590 a.C. e la famiglia del profeta Lei salpa verso la terra promessa. Alcuni membri della famiglia dimenticano le benedizioni di Dio e una tempesta terribile mette a repentaglio la loro vita. Basato su eventi reali, così come riportati nel libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Laman, dimmi, cosa pensi di questa bella nave che abbiamo costruito? Che abbiamo costruito? Vuoi dire la nave che ho costruito? Ehi, spostati! Sì, spostati! Vai! Tutto ad un pezzo! Sono briante! Vino! 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 L'Ama, smettila! Tu non sei fatto così. Ti prego… addolcisci il tuo cuore. Dio non potrà tollerare questa ribellione. Taci, padre! Laman, smettila! Nervati! Laman! 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 Laman, ricorda! No! 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 Chiunque parlerà in difesa di Nefi, farà la stessa fine! Laman! Laman, per favore! Laman, ti imploro! No. Almeno lascia che gli porti dell'acqua. No! Nervati! Non puoi restare qui! Non puoi resistere ancora! Il Signore lo permetterà per poter mostrare il Suo potere fino ad adempiere la Sua parola che egli aveva pronunciato riguardo... riguardo ai malvagi! Oh, Signore! Ti prego, sostienici nella nostra prova! Ma! No! 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 Lama. Questa tempesta ci sta sferzando da quattro giorni. Non ce la facciamo davvero più. Solo tu puoi porre fine a tutto questo. Lo so. E i giudizi di Dio sono su di noi. Lo so. No, no, no. Ti ringrazio, padre, per avermi liberato dalle mie catene. Oh, padre! Secondo la nostra fede... e la nostra unità placa le onde furenti, affinché non ci seppelliscano. No, 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 no. Giacobbe, funziona in base alla fede e all'obbedienza. E mostra la direzione dove dobbiamo andare, sia che ci conduca al cibo o alla terra promessa. Guarda, terra! La terra promessa? Finalmente. Talmente. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.